Oggi presentiamo un volume frutto del lavoro di Scuola Sinderesi del Centro Alberto Hurtado della Gregoriana su Città del Messico, che è la seconda delle città che abbiamo deciso di analizzare in questo triennio dedicato alla domanda urbanizzazione come esito della globalizzazione, ovvero quando c'è una situazione come questa di oggi evidentemente le città si amplificano, diventano grandi, diventano metropoli, anzi megalopoli. Allora cosa vuol dire organizzare la vita delle megalopoli oggi? Scuola Sinderesi è un think tank di pensiero, chiamiamolo così, è un itinerario di discernimento delle sfide sociali contemporanee. Noi studiamo volta per volta delle tematiche che oggi sono sul, diciamo così, come sfida per la società e tentiamo di comprenderle da un punto di vista plurale, cioè interdisciplinare, esercitando alla fine un discernimento cristiano al proposito, per così in qualche modo essere pronti a dare ragione delle prese di posizione, dei nostri punti di vista, a partire veramente dallo studio che abbiamo fatto con l'aiuto di esperti. Per ogni problematica incominciamo con un approccio sempre storico, poi di tipo sociologico, istituzionale, le scienze politiche, non tralasciamo le scienze umane, vuol dire pedagogia, la psicologia, cioè per ognuna di queste scienze chiamiamo un esperto, un esperto che tiene una lezione su quella tematica dal punto di vista di quella scienza. Quindi, diciamo così, alla fine dovremmo uscire con una comprensione dell'argomento sotto diversi angolature in maniera tale da renderlo il più possibile globale, complessivo e non settoriale. L'anno scorso, il 21, ricorrevano i 700 anni dalla fondazione di Tenochtitlán, l'antica capitale azteca, i 500 anni della conquista degli spagnoli, della colonizzazione e poi i 200 anni dell'indipendenza del Messico. Quindi per questo abbiamo scelto Città del Messico e il titolo dice Da antico mito a complessità contemporanea. Antico mito perché Tenochtitlán, così abbiamo dalle fonti storiche, quando sono arrivati gli spagnoli c'erano 80.000 abitanti, quindi già allora era una grande città, perché le grandi città europee avevano più o meno quel numero di abitanti allora. Però era una città molto armonica, infatti gli studi ci parlano una città sull'acqua, bene organizzata. Oggi se guardiamo a Città del Messico o come si dice Mexico City o Ciudad de Mexico, insomma, è una città enorme, veramente complessa, ecco qua, con delle aree molto diversificate e allora è stato molto interessante fare degli studi, che so, abbiamo guardato la Plaza de la Tres Culturas, che è una delle piazze più significative, un quartiere più significativo del Messico, dove la sua storia, anche la storia di questo quartiere pensato negli anni 60 e che poi ha avuto diverse trasformazioni. Ci parlano anche delle complessità e delle contraddittorietà, tant'è vero che abbiamo detto i tanti Messico, oppure il quartiere di Santa Fe che si è trasformato, la sua evoluzione, partito da un centro di raccolta dei poveri, poi è caduto quasi a essere a discarica e oggi diventa uno dei quartieri più esclusivi che quindi rappresenta questa difficoltà di convivenza tra questo modello di città che non è inclusiva ma molto divisiva, carica di ineguaglianze. Un esempio che è stato fatto e può essere anche trovato in uno dei capitoli del libro riguarda sicuramente il rapporto uomo-donna e abbiamo avuto un paio di relatori che hanno fatto riferimento ai movimenti femministi messicani e questo è anche ritornato un po' nella visione del film che abbiamo fatto alla fine del percorso, il film Roma. È stato molto interessante perché ci ha permesso di entrare ancora più in concreto quello che ci è stato spiegato durante le relazioni. Questa disuguaglianza ovviamente deriva a un derivato culturale, quindi quello che è stato proposto dai nostri relatori è che ci sia non soltanto un movimento dal punto di vista politico o giuridico ma anche culturale e sociale. La nostra analisi, focalizzandosi su Città del Messico, abbiamo fatto anche il punto di vista giuridico, voi sapete che il Messico ha una delle costituzioni più moderne, l'ultima è del 2016 e Città del Messico è diventata praticamente una città-stato all'interno dello Stato federale messicano. Allora guardando da una parte l'evoluzione giuridica è il modello istituzionale che regola la città, dall'altra i suoi effetti dentro le dinamiche sociali e qui abbiamo i chiaroscuri, abbiamo le conquiste soprattutto da un punto di vista delle prospettive e dall'altra però ancora molti ritardi. L'ambasciatore del Messico presso la Santa Sede che ci ha aiutato anche in questo percorso, ha fatto poi un intervento parlando dei sette peccati capitali del Messico, non sottolineando quei ritardi che sono del Messico e non sono, sono un po' dell'America Latina e che solo affrontandoli con decisione si può in qualche modo andare verso quel modello di città inclusiva e sostenibile che noi cerchiamo. Ecco questo è stato un po' l'AIM, cioè lo scopo della nostra analisi e anche la fatica di gestirla dentro un contesto plurale, diversificato, non così semplice. Il volume, la raccolta di queste analisi si pone l'obiettivo anche di cercare di descrivere una via latinoamericana che anche tante volte Papa Francesco ha proposto. La cosiddetta via latinoamericana è un po' una provocazione, viene un po' dal fatto che tutti i messicani direbbero noi siamo guadalupani, cosa vuol dire guadalupani? Ovviamente il riferimento è al grande miracolo della Madonna di Guadalupe, ma Guadalupe va oltre per il messicano l'evento religioso, tutti i messicani sono guadalupani, cioè c'è questo atteggiamento di fondo, di accoglienza, di solidarietà, di profonda umanità. Una caratteristica molto interessante della cultura messicana è che la religiosità popolare è una dimensione costitutiva dell'identità messicana e anche il principale strumento di evangelizzazione. Così nel mio capitolo sviluppo l'idea che le diverse teorie sulla secularizzazione hanno una sfida empirica quando si confrontano con diversi fenomeni di religiosità popolare, principalmente la religiosità popolare intorno alla Madonna di Guadalupe è un fenomeno empirico così grande che è impossibile di negare, soltanto un dato particolare. Nelle ultimi dieci anni più o meno, ogni anno, nella festa della nostra signora di Guadalupe, il 12 dicembre, i peregrini sono intorno alle 11 milioni, il 10, 11, 12 dicembre. Se uno prende attenzione a tutto il fenomeno guadalupano in tutto il paese, possiamo parlare di 35-40 milioni. Quando uno, per esempio, visita la Mecca, uno si sorprende per tantissimi peregrini che sono 24 milioni in tutto l'anno. In tre giorni nel Messico abbiamo 35 milioni. Così la religiosità popolare in Messico e anche in America Latina è un fenomeno fondamentale per interpretare, per capire, per vivere l'identità latinoamericana e anche l'identità cattolica. Questo stile di solidarietà, di inclusività, però dall'altra parte ha a che fare anche con il grosso problema della corruzione, degli autoritarismi, delle derive, come sappiamo, per quanto riguarda il narcotraffico, eccetera. Allora, la via latinoamericana è quasi una provocazione del dire. A Guadalupe la Madonna ha dato non solo una via per una evangelizzazione attenta alle culture, una vera inculturazione. Oggi Papa Francesco propone proprio questo, no? Una evangelizzazione che sia attento al santo popolo di Dio che in ogni parte della Terra ha le sue proprie caratteristiche. Ora, questo non è soltanto da un punto di vista religioso, ma deve fare, è una via che ci insegna a valorizzare le singolarità e quindi gli atteggiamenti di fondo di ogni popolazione e in questo caso per il Latino America, lo ripeto ancora, è questo atteggiamento accogliente di fondo, attento, capace di solidarietà, che dovrebbe aiutare a superare un modello neoliberista che anziché generare delle società inclusive, purtroppo appunto è il caso ad esempio di Santa Fe, testimonia delle profonde disuguaglianze. In Città del Messico ci sono ancora delle zone dove addirittura manca l'acqua per tante persone e questo è un, come dire, è una provocazione forte, no? Da una parte ci sono dei quartieri bellissimi, dei quartieri iperdotati e dall'altra parte c'è una povertà assoluta. Ora, questo è una, come dire, una contraddizione che va sanata proprio attingendo alle radici culturali di questa popolazione che invitano a fare esattamente il contrario. Quando il Papa ha fatto la riforma della Curia Romana, alcune persone hanno fatto la domanda perché una commissione per l'America Latina? E precisamente la risposta del Papa Francesco fu perché l'America Latina ha una specificità culturale, non interamente visibile dall'esterno, ma quando un messicano, per esempio, incontra un argentino che vive nell'altra parte del mondo, incontra un fratello, immediatamente un fratello in linguaggio, in attitudini fondamentali fronte alla vita, eccetera. Per noi, per esempio, come messicani è molto... è un'esperienza che che non possiamo capire quando, per esempio, qui nell'Europa uno cammina due o tre chilometri, uno è in altro paese con altro linguaggio, altra tradizione religiosa, altra attitudine fronte alla vita e così una piccola distanza geografica fa una enorme distanza culturale e anche religiosa. Nell'America Latina esiste un fenomeno culturale sotterraneo, ma empiricamente identificabile che è la cultura barrocca latinoamericana che fa una fratellanza tra le nazioni che è incredibile, ma è operante in tutta la regione. Il libro è molto completo e il motivo è perché appunto Scuola Sinderesi cerca di affrontare tematiche portando più punti di vista, quindi più approcci diversi. Questo ovviamente permette al lettore di avere una comprensione completa o comunque complessiva della realtà che viene spiegata all'interno del volume. Non si possono comprendere dei problemi dentro un mondo globalizzato come quello di oggi focalizzandoci semplicemente sulla notizia della cronaca del giorno. Oggi noi siamo una scuola di pensiero per giovani, giovani adulti, allora cosa vuol dire oggi abilitare delle giovani menti a comprendere il mondo. Questo modo di analizzare volta per volta delle problematiche suggerisce un metodo. Quindi anzitutto è per educare la mente a non fermarsi all'immediato e a uno studio profondo e plurale delle problematiche. Quindi questo è... Poi per quanto riguarda la tematica in se stessa è stato molto utile comprendere che cosa sta succedendo oggi in America Latina, perché ci rendiamo conto che alcune dinamiche, tipo appunto quelle delle disuguaglianze oppure delle risorse che ogni popolo può dare per uscire con una via alla sostenibilità, oppure ancora una volta il rischio dei derive autoritarie che sono presenti. Questi sono dei driver presenti in America Latina ma non solo. Allora c'è uno studio regionale aiuta in qualche modo a illuminare quanto c'è di condiviso anche in altre aree del pianeta. Grazie a tutti.